The Football Story 2030 presenta un mito del calcio, Giuseppe Galderisi, nato a Salerno il 22 marzo 1963, è un ex calciatore, di ruolo attaccante e allenatore di calcio italiano. Galderisi era un cannoniere rapido e agile, dotato di predisposizione al movimento senza palla, generosità e tenacia. Nonostante la sua bassa statura, dimostrava abilità sia nei tiri di potenza che di precisione, anche da distanza, e mostrava destrezza nel gioco aereo grazie a uno stacco preciso e un'ottima elevazione. Inizialmente schierato come seconda punta, ha trovato il suo massimo successo nel ruolo di centravanti, sfruttando la sua rapidità, senso del gol e uno stile da rapace d'aria. Cresciuto a Trecasali, provincia di Parma, gioca nelle giovanili della Via Triraito, nel Salernitano. A 14 anni e mezzo è acquistato dalla Juventus, entrando nel vivaio torinese. Galderisi fa il suo esordio in prima squadra della Juventus il 20 agosto 1980, durante una partita di Coppa Italia contro l'Udinese. La sua prima presenza in Serie A avviene il 9 novembre successivo, durante la partita Perugia-Juventus, con la Juventus gioca per due stagioni, distinguendosi nella stagione 1981-1982 con 15 presenze da titolare e 6 gol, tra cui una tripletta contro il Milan. Nel 1983 si trasferisce all'Ellas Verona, contribuendo in modo significativo alla vittoria dello storico scudetto nella stagione 1984-1985, diventando capocannoniere con 11 gol in 29 presenze. Dopo un altro campionato a Verona, si trasferisce al Milan nel 1985, vincendo un mondialito per club nella stagione 1986-1987. Nel 1987-1988, scende in Serie B con la Lazio e conquista la promozione in Serie A, torna a Verona nella stagione successiva e segna 4 gol. Nel 1989 è riscattato dal Milan, ma viene ceduto al Padova in Serie B, gioca 7 stagioni con il Padova disputando 180 partite e realizzando 50 gol, contribuendo alla permanenza in Serie A durante lo spareggio contro il Genoa. Nel 1995, a stagione in corso, Galderisi conclude la sua carriera negli Stati Uniti, giocando con New England Revolution e Tampa Bay Mutini nella Major League Soccer, vincendo una Supporters' Shield. A livello internazionale, subito dopo la vittoria dello scudetto con il Verona, viene convocato in nazionale dal commissario tecnico Enzo Bearzotte ed esordisce il 2 giugno 1985, a 22 anni, entrando al posto di Bruno Giordano all'inizio del secondo tempo della partita amichevole contro il Messico disputata allo stadio Azteca di Città del Messico. Galderisi ottiene la fiducia del CT che lo convoca per il Mondiale 1986, dove viene preferito a Paolo Rossi come spalla di Altobelli in attacco, gioca da titolare tutte e quattro le partite disputate dall'Italia, che viene eliminata dalla Francia negli ottavi di finale. In seguito all'avvicendamento tra Bearzotte e Azzeglio Vicini non verrà più convocato e concluderà la sua esperienza in nazionale con 10 presenze, senza nessun gol. Dopo aver concluso la carriera agonistica, Galderisi ha intrapreso una carriera come allenatore. Nel 2001, fonda la Galderisi Soccer Team a Padova, una scuola calcio dedicata alla crescita dei giovani talenti fino alla categoria giovanissimi. Il suo percorso d'allenatore inizia con squadre come Cremonese, Mestre, Giulianova, Gubbio, Viterbo e San Benedettese, con esperienze che variano da serie C2 a serie B. Successivamente, Galderisi allena squadre come Avellino, Foggia, Pescara e Arezzo, mostrando abilità e determinazione nel raggiungere obiettivi di promozione e mantenimento della categoria. Nel corso degli anni, Galderisi ha avuto incarichi anche con Benevento, Triestina, Salernitana, Olanense e Lucchese, ottenendo diverse esperienze e risultati. Nel 2021, assume la guida del Mantova in serie C2. Nel 2023, diventa l'allenatore della Gelbison, ma non riesce a evitare la retrocessione dopo una sconfitta nei play-out contro il Messina. Dopo il ritiro dal calcio, è stato commentatore televisivo. A livello individuale, il 1 aprile 2010 è votato dai tifosi del Padova, su iniziativa della società, come calciatore bianco scudato del secolo, in un concorso per stabilire quale giocatore e quale allenatore avessero fatto maggiormente breccia nel cuore dei tifosi padovani.